L'Evvation 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 Costa tanto Delle volte magari non ci si rende conto Però la mattina nel momento in cui andiamo ad alzare le nostre saracinesche Mediamente un esercizio commerciale spende di suo Fra elettricità, imposte, spese di personale Spende di suo dalle 30 alle 100 euro Parlo di un esercizio commerciale medio Senza poi considerare le tassazioni indirette Quindi nel momento in cui poi a questo aggiungiamo eventuali locazioni E altri canoni Sicuramente diventa difficile Talking appuntamento settimanale di approfondimento giornalistico Di informazione e comunicazione Parleremo da qui alle prossime festività Del tessuto economico Della crisi che attanaglia prevalentemente i commercianti E lo facciamo in un momento in cui l'ente è amministrato da un commissario Prefettizio Le cui posizioni sostanzialmente sono neutre Perché non si interviene sulle attività straordinarie Per ovvie ragioni È una diramazione ministeriale Ma ci sono purtroppo delle situazioni Che ci lasciano alquanto perplessi Ne parliamo con Natalino Chiarello Che è presidente dell'associazione commercianti ACOM Corigliano Rossano Grazie per aver accolto il nostro invito Grazie a voi dell'invito Intanto partiamo da questo stralcio È dura Mettersu un esercizio commerciale in questa fase storica? È dura Per il periodo in cui Siamo chiamati a mantenere l'investimento Nella città di Corigliano Rossano E nelle due municipalità Precedentemente alla fusione Perché comunque usciamo da un periodo di crisi Che ha mantenuto basso il profilo delle entrate Ha dato una scarsa liquidità nelle casse delle imprese E se vogliamo in qualche modo Si è accoppiata una cattiva semmai programmazione Che si è data anche alle attività economiche produttive Da parte e del governo centrale E del governo regionale E poi man mano fino alle amministrazioni comunali Che ahimè si sono sempre viste sprovviste di denari E oggi in gestione commissariale Continuano a dimostrare questa mancanza di liquidità Per gli investimenti Però fanno in qualche modo venire a mancare La natura stessa dell'investimento Che comunque con sacrificio Chi prima di noi e oggi noi portiamo avanti su questo territorio Io vorrei ricordare che Mantenere un'attività produttiva in vita Non è semplicemente il fatto di non andare a seccare Il politico di turno per trovare un lavoro Perché magari si crea una posizione autonoma E si cerca di realizzare un sogno nel cassetto Che si porta da bambini Ma aprire un'attività e tenerla aperta Specie nei periodi di crisi Ha anche un valore sociale Che non può essere messo in una posta di bilancio Quindi ascoltare queste esigenze Che vengono dal mondo delle piccole attività produttive Dal commerciante che non è semplicemente una posta di bilancio lì Messa perché viene chiesto in cambio un servizio Da anche una vivibilità, da anche un'attrazione Svolge una funzione sociale alla quale oggi le piccole imprese, i commercianti, gli imprenditori Chiedono anche attraverso la gestione, l'organo commissariale o il futuro sindaco Più attenzione Chi avete ascoltato nella parte introduttiva di questa trasmissione Si chiama Andrea Campana Che è presidente del comitato di Viale Michelangelo Località Rossano nel comune di Corigliano Rossano Una delle principali vie della città Quali sono le principali problematiche dei commercianti di quest'area? Penso siano quelle che hanno tutti i commercianti di Rossano ad oggi Che sono l'eccessiva tassazione sia nazionale che locale A cui si unisce in questo momento la gestione commissariale dell'ente Che non permette probabilmente determinate spese Probabilmente l'amministrazione attuale, l'amministrazione commissariale Ha inteso in un'ottica di spending review Ha inteso non illuminare le strade come erano solite fare le amministrazioni precedenti Noi come comitato di Viale Michelangelo invece ci siamo autotassati Noi negozianti supportati da alcune associazioni Soprattutto dall'associazione commercianti Ci siamo autotassati e abbiamo deciso comunque di non rinunciare al clima natalizio Al clima di festività In quest'ottica abbiamo fatto l'illuminazione natalizia a spese nostre Facciamo questo in collaborazione con le Proloco E noi cerchiamo di essere di stimolo a quello che è l'amministrazione Non vogliamo assolutamente andare a creare dei problemi con l'amministrazione E tantomeno andare a criticare quello che stanno facendo i commissari L'illuminare secondo me non è una spesa superflua Il creare un clima natalizio permette anche ai negozi di far meglio il proprio lavoro Senta, cresce anche un momento di malcontento nei commercianti Quando da un lato, come diceva lei, vi è un'accentuazione della pressione fiscale, tributaria e così via E dall'altro non si riescono neanche a garantire i minimi servizi essenziali Cioè in voi un margine di malcontento si accentua? Sicuramente, quando comunque la pressione fiscale è già alta In più vediamo aumentare le tariffe che possono essere tariffe Tari piuttosto che Imu Dall'altro lato vediamo magari la manutenzione cittadina è sempre meno efficiente per problemi di spesa Per carità, però dovremmo riuscire a trovare una giusta proporzione Fra quello che sono le imposte che noi andiamo a pagare al comune Piuttosto che anche le imposte, parlo anche a livello nazionale E i servizi che queste imposte ci restituiscono Ad oggi parliamo come Corigliano Rossano Ma penso sia un problema di tutta la provincia di Cosenze Non solo, penso anche della Calabria Ci mancano proprio dei servizi essenziali Che sono i collegamenti ferroviari La mancanza di infrastrutture adeguate Anche dal punto di vista della viabilità Quanto costa tenere in vita un esercizio commerciale da queste parti? Costa tanto Delle volte magari non ci si rende conto Però la mattina, nel momento in cui andiamo ad alzare le nostre sali cinesche Mediamente un esercizio commerciale spende di suo Fra elettricità, imposte, spese di personale Spende di suo dalle 30 alle 100 euro Parlo di un esercizio commerciale medio Senza poi considerare le tassazioni indirette Quindi nel momento in cui poi a questo aggiungiamo eventuali locazioni E altri canoni Sicuramente diventa difficile Dall'altro lato penso che comunque È vero che sono delle spese Che chi fa un'attività imprenditoriale deve mettere in conto Noi abbiamo inteso ad esempio costituire un comitato di quartiere Anche per cercare di fare gruppo E cercare di andare a creare una sinergia fra di noi commercianti In modo da magari sopperire Come ad esempio abbiamo fatto adesso con l'illuminazione A sopperire a delle mancanze che ci possono essere durante la quotidianità Nella parte introduttiva di questa nostra trasmissione Abbiamo avuto modo di eccepire alcune osservazioni Legittimamente ce lo consente il diritto di critica Quando parliamo di una realtà spezzettata con sfaccettature diverse Da un lato i commercianti chiedono legittimamente Un minimo di luminarie sotto le festività natalizie E si dice no perché non abbiamo fondi E dall'altro si nominano dirigenti Si nominano in posizione organizzativa Tra l'altro lei è presidente della selezione Ma ha avuto anche incarichi di governo in precedente amministrazione Cioè qual è la filosofia? Ci faccia capire la sua parere Vorrei che si focalizzasse meglio l'attenzione Rispetto al fatto che stiamo costruendo una nuova città La stiamo vedendo crescere giorno dopo giorno Quindi anche l'organo commissariale si è dovuto mettere E comunque imporre delle priorità nel fare determinate scelte I 30.000 euro messi quest'anno a disposizione Per quanto riguarda le luminarie Non sono altro che quanto l'anno scorso nel precedente bilancio Il comune di Rossano soppresso aveva Per quanto riguarda dedicato alle festività natalizie Certo è quest'anno il commissario ha dovuto dividere questa spesa Per entrambi i comuni Se poi da altri versanti o su altri versanti O si toccano capitoli per i quali ci si investe di più È perché probabilmente il commissario ha ritenuto opportuno Dedicare maggiore attenzione piuttosto alla pianta Della organizzazione del personale Piuttosto ripeto che a quanto può deliziare I percorsi commerciali delle due città Io dico invece che quest'anno i segni di una ripresa maggiore ci sono E cominciano a vedersi Gli indicatori economici a livello nazionale Ci parlano di una spesa pro capite di 171 euro Per quanto riguarda le spese natalizie E ci parlano soprattutto di una fiducia del consumatore Che va verso la piccola impresa che sfiora l'85% Certo un qualunque sindaco Un qualunque organo di governo Deve tener presente bene questi dati Perché non possono essere semplicemente dati spiattellati Per cercare di spronare il consumatore E quindi farlo uscire da casa Ma devono essere da stimolo nel preferire il negozietto Nella viuzza che riesce anche ad animare Quello che è lo spirito del Natale all'interno della città Quindi un maggior coinvolgimento nel crescere Nel vedere crescere la città Un maggior coinvolgimento del futuro sindaco Mi auguro Che possa catalizzare questa attenzione E metterla dentro Cercando di far coincidere le esigenze Di tutti gli attori protagonisti Io credo che è una sfida grossa, bella Che ci affascina E che sicuramente la possiamo giocare in ambito regionale Andrea Campena Ascoltiamo Un tempo si attendeva la fase post-natalizia Adesso anche sulle prime collezioni Voglio dire in materia di abbigliamento 30-40% Cioè che cosa sta accadendo? Semplicemente penso sia una ricerca sempre maggiore di liquidità Da parte dei miei colleghi Che vendono abbigliamento soprattutto C'è una ricerca sempre maggiore di liquidità Perché poi alle spese giornaliere Si aggiunge il problema anche dell'online L'online ad esempio è un problema che soprattutto nel settore abbigliamento E non solo Spesso crea dei disagi importanti Perché non è ben regolamentato A livello né nazionale né a livello europeo Ad esempio se l'altro l'altro parlavamo con alcuni colleghi Proprio nel mondo dell'abbigliamento Parlavamo del fatto che non si può vendere allo stesso prezzo Lo stesso prodotto Se noi in Italia abbiamo una tassazione totale Che arriva quasi al 60% O forse anche qualcosa in più E ad esempio in Spagna Piuttosto che in altre realtà Sullo stesso prodotto hanno una tassazione che arriva al 30% 30-35% Quindi in questo senso si dovrebbe intervenire Ma questo è un qualcosa a livello di normativa comunitaria A livello di normativa nazionale Per andare ad armonizzare quello che può essere il gap Fra la vendita in Italia e la vendita online proveniente dall'estero Siamo in un territorio in cui il terzario ci sta abbandonando Tribunale chiuso, uffici declassati, servizi tagliati Questa famosa spending review del governo Monti Ha decimato l'economia in queste nostre realtà Non ci sono aziende forti, grandi aziende Non c'è la grande alta industria Quindi non abbiamo grandi imbresi al di sopra Per esempio dei 15 dipendenti Tutto ciò che cosa determina? Determina sostanzialmente un aumento dei fitti E praticamente quasi una paradisi dell'acquisto casa Come si può mettere su famiglia in queste condizioni? Ascoltiamo al tal riguardo il responsabile di Rizzo Immobiliare Remax Davide Rizzo Come va il mercato immobiliare in questa fase di crisi? Sono 7-8 anni che si è un po' livellato A livello generale sia come magazzini che come appartamenti Ci sono stati i tempi d'oro fino al 2007-2008 Poi è andato pian piano scendendo Adesso diciamo che si è livellato Sembra che qualcosa si stia risvegliando Forse perché le banche hanno aperto un po' i ponti Quindi sembra che si stia risvegliando qualcosa Però è troppo poco ancora Che differenze ci sono sia per fitti che per vendi tra Corigliano e Rossano? Allora il mercato di Rossano è sempre un po' più alto rispetto a Corigliano Forse perché a livello urbanistico si è sviluppato un po' meglio Facciamo un esempio A metro quadro per esempio Quanto si vende a Rossano e quanto si vende a Corigliano? Allora sul nuovo Oggi a Rossano c'è pochissimo Perché sempre per la crisi c'è pochissimo Però siamo sulle 900 euro, 1000 euro a metro quadro Su Corigliano orientativamente siamo sulle 700-800 euro a metro quadro Poi dipende chiaramente anche dai costruttori Per quanto riguarda la locazione Siamo quasi simili Perché poi la differenza si assottiglia Quindi siamo sempre come appartamenti Sì sulle 350 euro a metro quadro per un appartamento arredato Quali sono le fasce sociali che tendono prevalentemente ad acquistare E quelle che tendono prevalentemente alla locazione? Sicuramente tendono ad acquistare perché possono Chi ha un contratto a tempo indeterminato Da noi è proprio quello il problema Perché non abbiamo grandi fabbriche Grandi stipendi statali La maggior parte hanno imprese Siamo tutte in presuccia Quindi è difficile che le banche Ci aprano le porte per un mutuo O per un finanziamento Quindi sono queste le ragioni Per cui c'è un incremento dei fitti E un abbattimento della vendita degli immobili? Sì Le banche vogliono la sicurezza Che tu riesci a pagare la rata Quindi che tu hai un immobile, due immobili A loro non interessa più di tanto Vogliono la sicurezza Che tu hai un'entrata di 1200 euro Faccio un esempio Riesci a saldare quelle 300 euro di mutuo che hai Se hai altri impegni Chiaramente loro valutano Hai un'assicurazione Hai due bimbi E le altre spese Loro dicono Ma tu come fai a riuscire a pagare Anche queste 300-400 euro al mese E quindi di conseguenza Ti bocciano la pratica Come se ne può uscire da questo stato di crisi? A sua parere Il mio pensiero è sicuramente Ci saranno le elezioni Adesso nel nuovo anno Quindi spero che chi andrà a governarci Proponga tante innovazioni Molti progetti nuovi Insomma faccia risplendere un po' queste due cittadine Che col passare del tempo Sono un po' decadute Nobili decadute Lo speriamo tutti Perché Diciamo Non si sta bene Non si sta bene Non c'è benestare Qui da noi Un'ultima battuta L'online infetta il mercato? Sicuramente Ma può essere anche una risorsa In che termine? Perché comunque è dall'online Che si scoprono Tutte le forme evolutive dei prodotti Ci sono prodotti che purtroppo Non arrivano Perché non sono conosciuti O perché la mentalità dell'imprenditore Presidente Campana non lo pensa così Presidente Campana sicuramente Ha una esperienza consolidata nel settore Però quando ci si dialoga Attraverso l'intera offerta merceologica Si scopre anche che su internet Ci sono dei prodotti Che magari O gambe di prodotti Che possono essere portati nel negozietto di vicinato Certo è che la burocrazia fiscale Dei siti Deve incentivare semmai quel gap Affinché il piccolo negozietto possa essere competitivo Non sai come far valere i tuoi diritti Hai bisogno di aiuto Conoscere per agire Centro servizi per la tutela dei tuoi diritti Sportello legale Infortunistica stradale Danni per malsanità Infortunistica sul lavoro Diritti del consumatore Servizi previdenziali Pensione invalidità Disoccupazione Maternità Malattia Infortunistica sul lavoro Consulenza gratuita Ci troviamo presso la sede del sindacato Will Ogni martedì Dalle 16.30 Alle 18.30 Via De Franchis 17 Corigliano Rossano Località Rossano Telefono 09 83 20 11 37 E 333 910 4 129 Centro servizi tutela e diritti Chiocciolagmail.com Non rimanere da solo Rivolgiti a noi Centro servizi per la tutela dei tuoi diritti Il Drago Il Drago 40 anni di storia nel cuore della città Accogliente Elegante Cucina mediterranea Nazionale e internazionale Gustose specialità Base di pesce fresco Locale E frutti di mare Vini pregiati Chef di primo livello Personale altamente qualificato Ristorante Pizzeria Il Drago Via Ippocrate 24 Corigliano Rossano Cosenza Località Rossano Telefono 09 83 51 21 89 È venuto il momento di pensare un po' a me Mi metto in tasca una bella ripetazione E chi si è visto si è visto Che bella dei 1720 euro È quello che è rimasto del tuo TFR Smettila di fare il bambino Tu vuoi trovarmi una badante Voglio una ESCO Ma scusi Non ci siamo già visti noi Miami India Assolutamente no Mi scambia per qualcun'altra Sa che cosa c'è Che sento di esprimere Tutta la mia praturperanza Un, due, tre Ciao per scacchette Ma che c'hai in mezzo alle gambe La mongola